Leggi l'articolo completo nel link in descrizione. Una sorpresa ti aspetta! BPM ed Apple Pay Dall'anno scorso le carte Nexi di Banco BPM, il terzo gruppo bancario italiano, possono essere abilitate sul sistema di pagamento digitale Apple Pay. Si tratta di un passaggio che consente di impiegare la carta Nexi BPM per un'ampia gamma di operazioni. In particolare, questo strumento di pagamento può essere utilizzato per eseguire transazioni ed acquisti sia online sia nei negozi fisici dotati di POS come funzione Contact Class. Apple Pay rappresenta una nuova modalità per poter fare acquisti sulle app, sui siti web di e-commerce e nei punti vendita fisici in maniera semplice, veloce e sicura. La procedura di configurazione della carta di credito è molto facile, considerato che richiede soltanto due minuti. Bisogna tenere a mente che è necessario installare sul proprio device Apple sia l'app Apple Wallet sia l'app Nexi Pay. È un passaggio imprescindibile per poter aggiungere al wallet di Apple Pay la carta di credito del gruppo bancario BPM. Gli strumenti di pagamento accettati devono appartenere al sistema di pagamento Visa oppure MasterCard, gli unici circuiti ammessi su Apple Pay. Come effettuare la configurazione della carta di credito Per abbinare al circuito Apple Pay la carta di credito Nexi, la procedura è molto semplice e veloce e varia a seconda del tipo di dispositivo utilizzato. Se si sta utilizzando un Apple Watch, bisogna aprire l'applicazione Apple Watch sullo smartphone collegato al primo device. A questo punto si seleziona la funzione Wallet e Apple Pay e successivamente la voce Aggiungi carta di credito o debito. Quindi si seguono le istruzioni che compaiono sullo schermo. Nel caso in cui si sta utilizzando un iPhone oppure un altro tipo di device, è sufficiente aprire l'app Wallet e premere l'icona più, per poi eseguire i vari step che appaiono sul display. In entrambi i casi si deve aggiungere la carta di credito Nexi BPM al wallet e abilitarne il riconoscimento. Dal punto di vista pratico è necessario usare la fotocamera del dispositivo Apple, iPhone oppure iPad, per effettuare la scansione della carta di credito Nexi. Successivamente si viene reinviati all'app Nexi, dopo le prime fasi relative alla sicurezza per poter completare la configurazione. Si può usare il dispositivo Apple per pagare in tutti gli esercizi commerciali e gli e-commerce che aderiscono al sistema di pagamento Mastercard e a quello Visa, modalità elettronica o contactless. Si ricorda che le app Apple Pay e Nexi Pay sono compatibili anche con il Mac. Inoltre gli acquisti nei negozi o sugli e-commerce sono autorizzati con il sistema Face ID oppure con il Touch ID in totale sicurezza. Iscriviti al canale e visita carteprepagate.org per le migliori carte del momento.